Chi pensava che l'ufficializzazione del ritrovato amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sancito con un viaggio assieme in Marocco, mettesse la parola fina ai rumors sulla coppia, deve immediatamente ricredersi? Le baligie non sono state ancora disfatte, che già un nuovo gossip vede protagonista la coppia. Secondo alcuni attenti osservatori, la bella argentina potrebbe infatti aspettare un secondo figlio dal marito. A buttare benzina sul fuoco ci avrebbe pensato la stessa Belen, con la pubblicazione di uno dei video girati proprio durante il viaggio in Marocco. Nelle immagini si vedono Belen e Stefano teneramente abbracciati, mentre le loro mani carezzano il pancino di lei. Solo un caso o un indizio che la bella argentina si è lasciata sfuggire in questo momento in cui non nasconde la gioia per la ritrovata armonia?